il c'è l'attacco il l'attacco il l'attacco l'attacco così vai a metterti un altro volta oltre è bello che le due volte te la fai un canto la rai, il raggio, il telemedicine, il telefono e che c'è la caronia e che c'è la caronia aieie brazzo sembra una cazzata oggi ma ci sono le foglioline c'è fatto? partito o no? no! si ragazza dai Gennaro urta la filina c'è franco c'è franco fermo! 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 il torello da monta il torello da monta come è montato il torello da monta c'è franco c'è franco c'è franco c'è franco auguri palo! 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 pianta! pianta! palo! c'è franco si di coglioni ciao Giovanni la rifai o? allora fermo ancora c'è franco c'è franco c'è franco che è franco adesso vediamo come è una scelta c'è franco 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 è franco ha fatto che è inferinto per rotto dai Gennarino vieni su adesso